Guardate che tutta ancora resiste dopo gli anni, dopo gli anni regalata da Emiliano ormai è una vecchia conoscenza non gli riesco mai a stare davanti però chissà forse oggi Passeggiamo con Antonio perché ora dobbiamo andare a fare il briefing, dobbiamo anche pesarci e scopriremo quanto pesiamo con la tuta e il casco perché ogni peso ha la sua categoria. Finite le raccomandazioni ora bisogna solo presentarsi con la Q1, Q2 e poi gara 1 che lì è dove si deciderà. Senti come ciclano, in bocca al lupo per chi rimane in piedi. Allora ci siamo fermati, andiamo a vedere il tempo, l'AQ1 è commentata, penso, stare nel secondo gruppo, vediamo un attimo. Quindi confermo, 1.15.8, vediamo sicuramente Q2 potremmo abbassarlo 1.15.3. Ho già individuato alcuni punti che mi danno noia e intanto mi vivo questa esperienza da pilota qui al TSC, a Latina, il Sagittario. Ci vediamo tra poco. Allora, Q2 sicuramente molto meglio, abbiamo tolto un secondo e due, un secondo e due qualche gocciolina, come vedete, il tempo qui è un po' triste, qualche gocciolina ci sta, insomma, adesso tocca vedere in che batteria, se prima, insomma, 14.5, non è male, non è male. Ora andiamo a vedere il tempo, che tipo di batteria probabilmente ci aspetterà dopo. Quindi vediamo un attimino se il tempo ci assiste, però note positive, il mio primo tempo al di sotto dell'1.15, quindi taglio così, andiamo a vedere che tempo era. 1.14.5 il tempo, quindi esattamente un secondo e due tolti, sono felicissimo. Ora speriamo di avere grande bagarre di imparare tanto dalla gara. Ciao, ci vediamo dopo in pista. Per la prima volta partirò dalla prima batteria, quindi, certo, non in una posizione fantastica, ultimo, però. Insomma, vedremo, 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 perché è un grande obiettivo, intanto sono sceso sotto l'1.15, 1.14.5, quindi fantastico. a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti